Io ho sempre analizzato con lucidità l'Inter costruita durante l'estate, era un Inter che prevedeva due mediani alle spalle di Snyder, che era ovviamente il nostro centrocampista di qualità. Le cose sono cambiate, sia nella situazione di Wesley, sia nel nostro modo di giocare. E' sotto gli occhi di tutti in generale che a noi manchi un giocatore con quelle caratteristiche.